Ciao, sono una mamma di Flavia, 4 anni e mezzo, e quest'anno abbiamo fatto questo tentativo di segnarla al corso d'inglese, pensando sinceramente che forse era un po' prematuro e anche un po' troppo impegnativo vista l'età della bambina, appunto 4 anni, e chiaramente ci siamo sbagliati. Quindi abbiamo sottovalutato le potenzialità della nostra piccolina, e come potete vedere invece August e Lotus sono riusciti a far parte, sono entrati a far parte molto prepotentemente della nostra vita, e infatti si sono appropriati sia dello stereo in auto che del DVD in casa. La Dino Routine per noi è davvero una routine, non si va a letto se non si fa almeno un'attività con loro. Dunque sì, direi che questo corso, vuoi per il metodo, vuoi per i soggetti così simpatici, credo che sia la strada giusta per avvicinarsi a una lingua straniera. La cosa che più mi fa piacere di questo corso è che Flavia non è intimorita nell'ascoltare persone che parlano in lingua straniera. Noi abbiamo dei parenti negli Stati Uniti, quando chiamano al telefono, lei vuole parlare, riesce comunque a dire qualche parola con la zia, anche solo un ciao, ci vediamo presto, un see you soon, oppure un me too, quando la zia gli dice che le vuole tanto bene. Spesso Flavia riesce ad usare nel contesto giusto delle espressioni che Acus e Lotus dicono nelle loro avventure. E questo credo che sia il miglior risultato che si possa ottenere da questo corso. Dunque, l'altro giorno, per fare un esempio, mi stavo arrabbiando con lei, mi stavo iniziando ad arrabbiare, quando allora mi fa, mamma, wait, please, wait. Non ho potuto fare a meno di interrompermi e come per me a Gia è passata pure l'arrabbiatura, quindi Acus e Lotus hanno anche questo merito, ci portano anche un po' di allegria in casa e sono anche due personaggi molto carini dai quali non ci vogliamo più separare. Speriamo di fare tutto l'iter insieme a loro e di raggiungere grandi risultati insieme. Bye bye!